Il consigliere regionale di De Magistris Presidente, Ferdinando Laghi, ritorna a visitare l'ospedale di Trebisacce all'indomani della presentazione da parte del Presidente Occhiuto al tavolo a duce del piano operativo sanitario regionale. La visita segue a quella di gennaio, effettuata nel corso del suo tour negli ospedali calabresi. Lo scopo è stato quello di verificare quali passi avanti fossero stati fatti nel frattempo, trovando purtroppo la situazione relativa al personale sanitario praticamente identica a quella di tre mesi fa. Io torno dopo tre mesi a Trebisacce anche a dimostrazione che l'impegno personale in ambito sanitario è un impegno reale, non è un impegno propagandistico e quindi torno e tornerò anche in altri nosocomi per verificare l'andamento della gestione ospedaliera e delle ricadute che la politica e delle risposte che la politica deve dare agli ospedali e alla sanità in generale. Devo dire che ci sono in questo caso degli elementi positivi, altri meno. Quelli certamente non positivi sono che a distanza di tre mesi la situazione del personale, quindi organizzativa, è rimasta identica. A donta dei proclami che sono stati fatti, delle rassicurazioni che sono state date, non è venuto nessuno. Cioè il nodo personale a Trebisacce come altrove è un nodo assolutamente fondamentale. Adesso c'è di buono che finalmente è stato riufficializzato quello che è un dato di fatto, che la magistratura aveva imposto. Cioè l'ospedale di Trebisacce rientra nella rete ospedaliere calabrese, cosa che è stata ufficializzata al tavolo a duce dal Presidente Occhiuto col piano operativo sanitario. Questo è estremamente importante, però al di là delle etichette, alla fine la gente deve essere curata da personale sanitario che purtroppo, ripeto, dopo tre mesi ancora non se ne è vista l'ombra.